Non si sarebbe fermata allo stop. E' questa, secondo gli inquirenti, la causa del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì, poco prima delle 18, all'altezza di Santa Maria Nuova di Bertinoro nel Forlivese, quando una bambina di 10 anni è stata travolta da un camion. La buona sorte non è stata dalla parte della piccola. Mentre tornava a casa in sella alla sua bici, infatti, non avrebbe osservato i segnali stradali, forse per distrazione o perché conosceva bene quel tratto di strada. E così un camion l'ha colpita causandole gravi lesioni fisiche. Il conducente dell'automezzo non ha potuto fare nulla per evitare di travolgerla. L'uomo, ora stravolto alla vista della ragazzina, ha deviato all'ultimo istante, finendo con il camion nel fossato di sinistra. Egli è assicura di aver tentato di tutto per evitare lo schianto, versione inoltre confermata da un testimone presente sul posto al momento dell'incidente. La piccola è stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena con l'elisoccorso con un codice di massima gravità. Oltre all'elicottero è intervenuta anche un'ambulanza da Forlimpopoli e gli agenti della municipale sono stati impegnati fino a tarda sera per effettuare i rilievi. Al momento i medici si dicono preoccupati per le condizioni della piccola, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita. I suoi genitori, giunti sul posto poco dopo l'incidente, sono ancora sotto shock e si dicono increduli di come tutto sia potuto accadere a così pochi metri da casa.